Chi guarda con speranza i play-off, chi ha la salvezza diretta, la posta in palio è alta, il Galileo Speziale tra Acqua e Sapone e Nereto che si sfidano nel primo appuntamento di marzo per centrare un successo preziosissimo. Fischia Iannella dell'Aquila che oggi avrà tanto lavoro, gioco spezzato da tanti falli e bel calcio che ovviamente ne risentirà. Cinque minuti è Acqua e Sapone che protesta per una deviazione di mano sul tiro di Centorame. Lascia correre Iannella che sul calcio d'angolo successivo assegna la massima punizione per un atterramento in area di Luca Marrone. Dal dischetto capitano di Biase con una grossa responsabilità, dimenticare tra l'altro l'errore del match di andata dagli 11 metri. Di Giuseppe intuisce ma non può nulla, vantaggio verde-oro ed ottavo centro in campionato per il capitano che si carica. L'acqua e Sapone sulle spalle, il Nereto non sta a guardare e alza il baricentro, Antonacci da fuori, Palena non si fa trovare impreparato. Sfonda sulla destra Zetti, palla al bacio per Lazzarini che spedisce fuori ma la sensazione è che la squadra di De Feudis abbia il pareggio in pugno. La De Abbe è data, premia però l'acqua e Sapone, botta, clamorosa di Florimbi che spacca la traversa. Ancora il 10, batte Palena ma deve fare i conti con Ricci che sulla linea si erge a protagonista. Il primo tempo va agli archivi con tante lamentele ospiti per il gioco duro dei padroni di casa. La ripresa si apre con una clamorosa, palla gol per Lazzarini da due passi. Di testa non concretizza. Marrone, Arpiona, un gran pallone sinistro che si spegne alto. L'ultima occasione per Tommasini che si sposta il pallone e va a incrociare. Palena guarda e ringrazia Antonacci solo al centro, si dispera. Finisce 1-0, il Nereto perde tre punti importanti in ottica la playoff. L'acqua e Sapone torna a vincere dopo due mesi e mezzo sotto il segno della sofferenza e del collettivo. Mister De Feudis, una sconfitta qui sul campo di Montesilvano. Appena avete subito il gol intorno al decimo minuto poi li avete schiacciati però non siete riusciti a pareggiarlo. Sì dai, perché lo sapevamo che era una partita così, che si decideva su un episodio. Diciamo che l'acqua e Sapone è stata brava ad approfittare dell'unico episodio che magari gli è capitato e noi siamo stati poco fortunati negli episodi che abbiamo avuto. Episodi anche arbitrali a suo dire? Oddio, no, episodi arbitrali no, perché il rigore quando ci sta la trattenuta uno lo può dare, non lo può dare. Però l'andamento, la condotta della gara diciamo che non mi è andata tanto giù. Però recriminare per quanto riguarda il discorso risultato sulla partita, recriminare nei confronti dell'arbitro non è nella mia indole. Mister Del Galo, questo è un successo preziosissimo, tra l'altro è anche il primo del 2019 e certifica che l'acqua e Sapone c'è nella bagar salvezza diretta. Sì, noi ci siamo sempre stati, però venivamo da un periodo in cui non riuscivamo a ottenere quello che secondo me seminavamo in mezzo al campo. Oggi probabilmente siamo stati meno belli del solito, però siamo stati più produttivi e più bravi a mantenere il risultato. Faccio un applauso ai ragazzi, anzi questa vittoria è tutta loro perché l'hanno voluta fortemente, la volevano da tempo e adesso dobbiamo continuare a lottare perché la salvezza è veramente dura. Da quello che si è visto oggi, si è appunto visto che c'era tantissima voglia e sofferenza, anche voglia di soffrire per portare a casa questo risultato. Sì, sì, è proprio questo, abbiamo messo tutto quello che avevamo dentro al campo perché sapevamo che affrontavamo una squadra forte ed ha dimostrato il suo valore e noi con le nostre armi siamo riusciti a portare in casa i tre punti.